Asa non c'è più ma rimangono molti dei problemi di Asa, uno fra tutti quello dei dipendenti che sono fuori dal ciclo produttivo e che aspettano un po' tutto dalla cassa integrazione agli arretrati. Sì certo, noi siamo stati contenti di essere riusciti a ricollocare quelle 128 persone, però non possiamo ritenere questo come un risultato pieno sul fronte sindacale perché abbiamo 100 persone che ad oggi sono fuori dal circuito produttivo, quindi sono a pieno titolo ex dipendenti, abbiamo un incontro lunedì in provincia per provare a mettere in piedi insieme alla provincia un percorso di ricollocazione, però sono progetti meritevoli ma che stando alle percentuali danno poi una possibilità di effettiva ricollocazione delle persone per circa il 20%, quindi 1 su 5 e poi ci sono i problemi collaterali alla fine del percorso fatto con Asa, quindi ci sono queste persone che oltre a avere di fronte soltanto la disoccupazione, gli 8 mesi di disoccupazione, 12 per chi è sopra i 55 anni, in realtà stanno ancora aspettando il pezzo della retribuzione di ottobre, le aspettanze del salario di ferito, quindi 13esime, 14esime, ferie maturate non godute e il pezzo del TFR, è chiaro che in quelle condizioni lì che diventano condizioni tristissime di sopravvivenza, quelli sono i monumenti che fanno la differenza tra riuscire a mangiare e non riuscire a farlo, quindi in questo senso noi stiamo cercando anche di avere un incontro con la procedura per capire in tempi rapidissimi che cosa hanno intenzione di fare. La paura è che non ci sia più un interlocutore con Asa che ha chiuso i battenti, invece un interlocutore in qualche modo c'è? L'interlocutore c'è, formalmente c'è, spero che ci sia anche fattualmente, noi in questi giorni abbiamo telefonicamente sollecitato intanto il pagamento dei primi 15 giorni di ottobre che sono stati lavorati, stiamo sollecitando l'effettuazione delle procedure che dovrebbero portare al pagamento della cassa integrazione di ottobre, settembre e agosto e poi chiaramente c'è tutto il discorso in piedi anche per quanto riguarda ad esempio quei lavoratori che si occupavano della tariffazione, della bollettazione della TIA per i comuni, adesso si dovrebbe mettere in piedi un gruppo perché questo prevede la legge quando è un privato a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti, che ci sia un gruppo di persone che invece risponde al CCA, che è l'organismo pubblico che deve sovraintendere la gestione della raccolta, che faccia il controllo dell'attività perché ovviamente trattandosi di un servizio delicato come quello della raccolta rifiuti, chi ha poi la responsabilità di vigilare sono i comuni e devono dotarsi di un organismo che vigili che le cose siano fatte in un determinato modo. Poi c'è l'altro problema che riguarda tutti quei servizi collaterali un po' extra raccolta ma che andavano di pari passo con la raccolta, come ad esempio il numero verde, tutte queste cose qui che non erano previste nel bando di gara e di cui invece la nuova azienda si dovrà adottare e a nostro avviso dovrà farlo con risorse umane nuove perché il bando prevedeva l'inserimento di 123 persone per fare determinate mansioni, non era previsto che queste persone fossero utilizzate per fare delle mansioni diverse di cui c'è bisogno ma che devono essere contrattate con i comuni come prevede il bando. C'era proprio un capitolo a parte che erano i servizi opzionali, ad esempio parlo del numero verde per citarne uno che è facilmente comprensibile da tutti, quando uno deve chiamare perché ha rifiuto ingombrante da farsi venire a ritirare a casa, dall'altra parte qualcuno deve rispondere e a nostro avviso non possono essere le persone che sono state assunte per fare la raccolta ma dovranno essere delle persone nuove, chiaro che però anche lì i comuni dovranno prevedere un accordo che preveda la remunerazione di queste persone, non è immaginabile che sia l'azienda a rimetterci del suo e a prenderli extra ma siccome proprio il capitolato era stato costruito con questo meccanismo dei servizi opzionali, questo è un servizio opzionale e quindi si può pensare di recuperare qualche numero in termini di posti di lavoro e per noi dietro i posti di lavoro ci sono sempre le famiglie, non sono mai numeri in quella direzione. E poi ci sono questioni pregresse come il famoso quinto dello stipendio che molti lavoratori hanno versato in ASA e che ASA non ha mai versato e adesso si trovano con grossi problemi con le finanziarie, con delle ipoteche, con dei mutui non pagati della casa, in questo caso si può fare ancora qualcosa? No, si deve fare qualcosa anche perché quelle sono somme che obbligatoriamente avrebbero dovuto già essere depositate presso i vari fondi, presso le varie finanziarie e quant'altro, se non è stato fatto ovviamente di per sé potrebbero anche esserci delle responsabilità di tipo penale perché quei soldi dalle buste paga sono state trattenute, poi c'è sicuramente il modo per quanto riguarda i fondi del TFR che erano stati eventualmente destinati a dei fondi di recuperarli tramite il fondo di garanzia all'Inps, non è però per tutti gli istituti così e su questo ci aspettiamo delle risposte da parte della procedura che immaginiamo non sia nella condizione di tirar fuori tutto il quantitativo di denaro subito, però se riesce a concordare un cronoprogramma e possibilmente a rispettarlo mano a mano che incasserà le somme che dovrà incassare, questa è una priorità anche perché nel frattempo queste famiglie sono state iscritte alla lista dei cattivi pagatori e risultano come cattivi pagatori in un momento difficile come questo, non possono neanche magari andare in banca e farsi dare il fido perché è capace che la banca con quelle credenziali lì non lo eroga più allora qua stiamo parlando di condizioni di sopravvivenza, quindi non possiamo pensare di tralasciare o trascurare delle cose